buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vorrei parlarvi del capitolo 1033 di one piece spiegare cosa è successo e teorizzare qualcosa su di esso questo capitolo è stato tipo un recap di informazioni di eventi che già conoscevamo ma che avevamo bisogno di vedere con i nostri occhi ma ovviamente andiamo con ordine non perdiamo altro tempo e iniziamo subito il capitolo inizia mostrandoci un zoro in difficoltà nel maneggiare la enma di odin infatti all'improvviso quest'ultima ha iniziato a emanare tutto il suo potere ed è quindi andata fuori controllo il tutto viene visto da king che sbeffeggia lo spadaccino dei mugiwara ma zoro non si demoralizza e lo colpisce tuttavia improvvisamente dopo il tocco con la calamità avviene una gigantesca esplosione qui possiamo ovviamente pensare che quella esplosione sia stata scatenata da king stesso ricordiamo che i lunariani possono creare e manipolare il fuoco a proprio piacimento e quindi è possibile che quello sia stato un attacco esplosivo creato proprio da questo tipo di potere che possedeva quell'antica razza diciamo che i poteri della specie di king sono un misto di due frutti ossia il meramera e il bang bang ma continuando con il capitolo dopo l'esplosione la scena si allo scontro tra queen e sanji l'ibrachiosauro intuisce che il cuoco stesse parlando con zoro e afferma che quest'ultimo non può nulla contro king perché egli è un lunariano e chi fa parte di quella razza può vivere senza nessun problema in qualsiasi ambiente naturale e tantissimo tempo fa venivano considerati addirittura come dei e king è l'ultimo di questa antica razza naturalmente a sanji gli sorge un dubbio come hanno fatto ad estinguersi e quindi gli risponde che dovrebbe chiederlo alla storia fermiamoci un attimo sapevamo che i lunariani vivevano in antichità sulla red line e quindi sapevamo che potevano sopravvivere anche in ambienti alquanto estremi la mia teoria dell'epoca rimane ancora valida se i lunariani provenissero da una delle lune ci sta che essendo abituati a quell'ambiente in ospitale riescono a sopravvivere in qualsiasi ambiente naturale sulla terra di one piece inoltre per sapere chi ha sterminato il lunaria dobbiamo pensare chi vive tuttora sulla red line esatto i draghi celesti quindi è possibile che siano stati loro a sterminare gli dei della linea rossa così da prendere il loro posto ah ovviamente parlo dei primi draghi celesti quelli che hanno creato il governo mondiale non le pippe che vediamo adesso a marigioa ma erano davvero così forti da riuscire a sconfiggere un'intera razza che veniva vista come divina probabilmente o avevano un'arma in grado di distruggerli come per esempio un'arma ancestrale o conoscevano il punto debole dei lunariani che continua a pensare che sia il fuoco posto sulle spalle ah penso anche che se fosse così la razza di king dovrebbe avere un meccanismo di difesa per far sì che nessuno estingui quelle fiamme ma ritornando al capitolo la scena si sposta nuovamente da zoro e king ma prima oda ci mostra di nuovo onigashima in volo e vediamo anche l'ombra di momonosuke drago che sta facendo fuoriuscire le nuvole e sta ricoprendo tutto il lato di sotto dell'isola di kaido queste piccole scenette dove il mangaka ci mostra delle info mi piacciono tantissimo ad ogni modo zoro riesce a sopravvivere dall'esplosione di king perché ha attivato l'aki dell'armatura in tempo l'autore sta iniziando ad inserire questi dialoghi per far capire alla gente che anche se non fa vedere il disegno dell'aki dell'armatura i personaggi che sono capaci di usare tale ambizione la usano e penso che l'abbia fatto per quelli che dicono ma non ha usato l'aki dell'armatura e nemmeno quello l'ha usato eccetera penso che mi avete capito ma a parte ciò lo spadaccino dalle tre spade riprova ad attaccare king ma nulla di fatto la calamità non sembra risentirne e riattacca zoro usando la mossa speciale degli ipteranodonti in quel momento il mugiwara riprova ad estrarre enma per difendersi ma ancora una volta quest'ultima emana tutta la sua potenza debilitando lo spadaccino che per poco non veniva colpito dal colpo di king e per questo inizia a cadere giù e stava addirittura perdendo la sanda ikitetsu che riesce ad acchiappare al volo ma la calamità del fuoco colpisce il suo nemico in volo e fa ritornare quest'ultimo suo onigashima diciamo che poteva anche farlo cadere da quell'altezza ci sono poche possibilità di sopravvivenza però forse king è così arrabbiato per il fatto che zoro gli abbia rotto la maschera che vuole distruggerlo a tutti gli effetti quindi secondo me è per questo che non ha fatto cadere lo spadaccino e nel mentre zoro le prende di brutto inizia a pensare a come ha avuto le sue spade iniziando dalla sanda ikitetsu che gli è stata donata a rogue town e viene anche menzionata da tengoyama dato che è stato lui a forgiarla poi si passa alla wado ichimonji dove rivediamo il momento in cui zoro chiede di avere la spada di kuina a koshiro ed anche per questa spada rivediamo una scena di tengoyama dove informa zoro che sia la wado ichimonji e sia la enma sono state forgiate dal medesimo forgiatore ossia shimotsuki kozaburo naturalmente ora zoro mentre sta lottando contro uno dei nemici più difficili da sconfiggere pensa sul come è possibile che una spada di wano sia arrivata nell'est blu e quindi inizia a fare dei ragionamenti sensati il tutto mentre lotta contro king pensa anche alla parola snatch che lui sentiva da un vecchio che si trovava nel suo villaggio ed anche quella frase era tipica di wano e finalmente zoro capisce tutto quel shimotsuki kozaburo che fuggì da wano 50 anni fa è lo stesso uomo che ripeteva sempre la parola snatch e che sarebbe il nonno di kuina nonché il forgiatore della enma e della wado ichimonji e finalmente lo vediamo questo è shimotsuki kozaburo sarò sincero vedendo koshiro e vedendo kuina mi ha aspettato un aspetto un po diverso ma sappiamo come oda deve rendere le persone goffe e buffe ma ora vi dico una cosa che non so se ci avete fatto caso oda nelle sbs del volume 92 disegnò le tre spade di zoro di allora umanizzate e guardate che faccia ha la wado ichimonji ebbene si sembra proprio kozaburo da giovane quindi ora mi aspetto il volto di tenguyama simile a quello della sanda ikitetsu ma più vecchio a parte queste piccole chicche zoro andava sempre da questo vecchio per lamentarsi delle sue sconfitte subite da kuina anche lo shimotsuki fa in dono due spade non affilate per farlo allenare e gli spiega un po di cose riguardante la caratteristica principale delle spade infatti dice che ogni spada ha la sua personalità e lo spadaccino è colui che sa soggiogarla in parole povere lo spadaccino deve ammaestrare diciamo così la spada così che quest'ultima possa rispondere sempre al suo proprietario rendendo di fatto i colpi della spada più potenti ma il flashback di zoro e kozaburo non finiscono qui quest'ultimo spiega che le spade maledette non sono pericolose anzi è un bene che le persone abbiano paura di esse proprio perché sono letali ed afferma che ci fu una spada che forgiò tanto tempo fa la migliore di quelle forgiate da egli stesso e disse che gli diede il nome del re degli inferi ossia enma e si ritorna al presente zoro ha capito tutto kozaburo era di wano fuggì da quest'isola e si rifugiò nell'est blu e creò il villaggio di shimotsuki e la enma e la moa di chimonji sono spade che quest'ultimo ha forgiato e capisce anche un'altra cosa importante ossia che la spada di oden lo stava mettendo alla prova perché lo ha scelto lo ha scelto come suo prossimo proprietario quindi penso che sia alquanto impossibile che cambi questa spada rimarrà con lui e sicuramente l'annerirà definitivamente ma dopo questa scena zoro capisce che deve scogitare qualche piano per stabilizzare l'aki della enma e mentre pensa a ciò da lui fuoriesce l'aki del re che fa svenire molti sottoposti di kaido e qui abbiamo la conferma che zoro possiede realmente questo tipo di hachi cioè la vera conferma l'avevamo avuta quando lo affermò kaido sul tetto perché è impossibile che un imperatore non sappia quando una persona usa o no l'aki del re però ci stavano ancora molti dubbiosi a riguardo ma ora od ha rivelato il suo tris dalla mano tris come le spade che impugna zoro in questo momento che sono intrinseche sia di hachi dell'armatura e sia di hachi del re dato che vediamo i tuoni neri sulle katane proprio come abbiamo visto fare da roger e barba bianca e da kaido stesso king vedendo l'aki del re conquistatore di zoro gli domanda se volesse diventare un re e lo spadaccino ricordando le parole di rufi quando entrò nella sua ciurma risponde certo l'ho promesso al mio capitano e alla mia migliore amica e il capitolo finisce qui allora è stato un capitolo pieno zeppo di feels perché molte cose che vengono mostrate noi le avevamo già viste ma quelle scene facevano parte di un puzzle non ancora completo e con la rivelazione di shimotsuki kozaburo e della sua spiegazione sulle spade è stato possibile completare quel puzzle inoltre zoro ha ricevuto un ennesimo power up perché è possibile che ora attacchi king con le spade impregnate di hachi dell'armatura ed hachi del re come faceva oden ai suoi tempi e come hanno fatto e fanno i più potenti del mondo di one piece io spero che dopo questo combattimento lo spadaccino anerisca almeno una delle sue tre spade giusto per farci capire che ha capito il modo di anerirle definitivamente le due più papabili ora sono la elma e la wado ichimonji non so se l'achidel reserva come fattore scatenante per l'annerimento effettivo delle spade perché se così fosse oden avrebbe anerito le sue due spade quindi chissà ricordiamo che riuma ci riuscì perché si dice che non avesse mai perso uno scontro nella sua vita lo scontro tra zoro e riuma zombie non vale perché lo zombie aveva l'ombra di brook e non poteva dare il massimo però se vogliamo anche pensare che sia riuscito ad anerire tutte e tre spade definitivamente ora che ha capito un po come bilanciare i yaki ci sta come ipotesi tanto la verità la scopriremo a fine scontro e lì vedremo se ha anerito qualche spada oppure no penso di aver detto tutto mi dispiace se ho fatto poche teorie ma è un capitolo di conferme e rivelazioni però ci ho provato dai chissà quando verrà chiuso lo scontro tra fukuro kuju e raizo e detto ciò vi ricordo che è iniziato il black november su pampling quindi dal 22 al 29 novembre tutte le maglie che vedrete sul sito costeranno 9 euro e 90 ed usando il codice il gru 91 riceverete in regalo un paio di calze a vostra scelta io se fossi in voi ne approfitterei per fare scorta trovate il link per l'acquisto in descrizione spero che il video sia stato di vostro gradimento fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto e non dimenticate di entrare nel canale telegram di one piece unity dove troverete tanti fan di one piece con cui discutere pacificamente e noi ci sentiamo come sempre in un prossimo video